Allora, se voi di Berlani siete qui per dire delle cose molto sconvenienti, sono una persona che sono stato io, che sono stato l'unico sindico di Roma, che quando ha piovuto la neve a 35 gradi di centimetri la neve si è trasformata a 4 gradi di centimetri di catone, a 18 gradi di centimetri in tortellino, a 19 gradi di centimetri in orologio e a 77 gradi di centimetri in gatto, stanno per piovere 4,95 centimetri cubici di gatto a Roma, scappate tutti, chiudete le porte, chiudete la vostra socia e chiamate esercita! Anche il sindaco attuale ha deciso di chiamare l'esercito e quindi abbiamo creato una specie di mostro a due teste, ma ormai non lo posso più fare perché ve l'ho detto, l'avrei dovuto fare prima, ma ormai la lucidità è quello che è. Vi voglio lasciare con questa canzone sensibilissima, una canzone che parla, ho parlato anche un po' male del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per carità, io ti voglio bene quel testo di brutto, ma che per carità, quell'idiota del muro che è brutto, che per carità, ma io, ma che avessi mai detto male, ma figuriamoci, questa canzone è dedicata all'America, ma anche un po' a Roma e un po' anche alla Romagna e si intitola un po' da Lando Fiorini, che era un cantante romano e un po' anche Michael Bublé, sentitola un po' anche che parlavo in casa dei, sentitola un po' anche Raul e Lando Bublé, e fa così. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti